Le Marche ancora prime quando si tratta di attenzione alla salute. Inno Leaving, azienda all'avanguardia in tema di test in vitro, è pronta a mettere a disposizione di ospedali e laboratori il test che è in grado di rilevare la presenza di anticorpi contro il virus del vaiolo delle scimmie. Questo test è un test da sangue capillare, quindi facendo un buchino sul polpastrello si prea un po' di sangue capillare e va alla ricerca degli anticorpi. Chiaramente gli anticorpi hanno bisogno di tempo per essere sviluppati, quando contraviamo il virus dopo qualche giorno il corpo reagisce e inizia a produrre anticorpi. E' solo in quella fase che si ha la positività perché chiaramente nelle prime ore gli anticorpi non sono già ancora attivati. Il virus è un'infezione virale che viene trasmessa dagli animali all'uomo, tra i sintomi, stanchezza, febbre, dolori, ma a mandare in allarme sono le forti eruzioni cutanee associate a questo virus. Non ha ancora in Italia larga diffusione, ma gli anni appena trascorsi ci hanno insegnato a non abbassare la guardia e ad agire preventivamente. Questi sono solo per uso professionale e vengono dati a laboratori ed ospedali. In generale di solito è il pronto soccorso, comunque è il reparto deputato alle verifiche di pazienti di casi sospetti che le utilizza in una maniera opportuna e che ne decide l'utilizzo. Il test Monkeypox Virus Antibody in no living è uno strumento utile per gli operatori sanitari e le strutture mediche italiane. E' a rilevazione rapida e con risultati attendibili. Dopo aver praticato un foro sul popastello del dito si preleva la goccia di sangue e viene messa in questo vano e poi con quattro gocce di reagente messe sullo stesso vano si provoca la reazione. e poi nelle due linee più vicine ci indica la positività o la negatività. Le marche si dimostrano ancora una volta un'eccellenza a livello sanitario, con tecnologie avanzate e metodi efficaci per garantire la salute.